ciao a tutti ragazzi io sono exavian e bentornati sui server pubblici di test di heroes of the storm e oggi direttamente dal mondo di diablo dovrei specificare forse diablo 3 però in generale dal mondo di diablo è arrivato proprio lui l'arcangelo della morte maltael molto bene un assassino da mischia molto particolare mi sa anche perché ho dato un attimo un'occhiata alle sue abilità perché stavo aspettando tantissimo questo personaggio a quanto pare tutto il suo kit è basato sulla salute degli avversari però diamo un pochino un'occhiata perché poi non ne so più di tanto diamo un po' un'occhiata quindi alle sue abilità e al suo tratto ovviamente anche i talenti vediamo marchio del mietitore il suo tratto gli attacchi base applicano marchio del mietitore sui bersagli diversi da strutture per 4 secondi i nemici marchiati sono rivelati e subiscono danni pari al 2,5 per cento della loro salute massima ogni secondo ok sì possiamo già dire assolutamente che sarà un anti tank micidiale però vediamo un pochino le altre abilità e a quanto pare non può utilizzare direttamente la sua q e nemmeno la sua w quindi dovremmo prenderli probabilmente con la nostra e che sarebbe velo di morte utilizza 50 di mana recupero 8 secondi dopo 0,25 secondi rilascia un'onda oscura che applica marchio del mietitore ai nemici colpiti quindi molto molto semplice skill shot lineare quindi wow bell'effetto onestamente poi vediamo proviamo ad andare un attimo verso le manichino qui diamo un'occhiata intanto anche alle sue abilità anche se non le possiamo usare però le possiamo leggere messe d'anime recupero 2 secondi quindi un cooldown molto basso sottrae le anime dei nemici vicini colpiti da marchio del mietitore infliggendo 104 danni e curando maltel di 46 salute per ogni bersaglio gli eroi forniscono un bonus alle cure pari al 3% della loro salute massica quindi a quanto pare abbiamo anche una possibilità di avere un po di self sustain con questa abilità beh in generale blizzard non ha mai fatto mancare un qualcosa per dare un po di sopravvivibilità a un personaggio o comunque dare la possibilità di sopravvivere a un personaggio in generale se il mio italiano non ne fa troppo schifo poi la nostra w assalto spiritico recupero 5 secondi maltel si teletrasporta attraverso un nemico colpito da marchio del mietitore infliggendo 61 danni e rinnovando marchio del mietitore molto bene quindi proviamo un pochettino le sue abilità intanto sul manichino quindi dovremmo colpire con la nostra e poi dovremmo colpire con la w e poi potremmo utilizzare anche la nostra q quindi questo significa che potremmo colpire mi sa più di un bersaglio se ci ho fatto caso vediamo anche con gli auto attacca si dovrebbero applicare sì esatto marchio del mietitore si applica anche con un semplice auto attacca a quanto pare sto notando anche che la nostra q comunque si accorge del range che sarebbe questo qui molto interessante penso che la combo sia tipo la e ci allontaniamo utilizziamo per esempio la w e poi caspita molto veloce sarà piuttosto interessante e allo stesso tempo mi dà l'impressione che non abbia un vero e proprio escape almeno che sarebbe carino provare una cosa cioè voglio vedere su quante su quante cose possiamo mettere il marchio soprattutto possiamo metterlo anche sui minion penso proprio di sì no ma già di sì esatto però se ci sono più marchi quale colpiremo ok dobbiamo dirlo noi in caso quale su quale bersaglio vogliamo andare ok quindi non è una cosa istantanea invece se abbiamo solamente un bersaglio in range no ok dobbiamo per forza targetarlo a quanto pare perfetto quindi questo leva un pochino il mio piccolo dubbio qui allora vediamo subito i suoi talenti al livello a lungo della morte stendo del 35 per cento la portata di assalto spiritico ok destriero etereo aumenta del 20 per cento la velocità di movimento su cavalcatura e paura del mietitore all'attivazione aumenta la velocità di movimento del 25 per cento consente di oltrepassare le alle altre unità per 4 secondi recupero 25 secondi quindi qui potremmo dire che questa è un'abilità molto difensiva c'è impossibile body bloccarlo in questo caso significa almeno per 4 secondi sicuramente può essere utile soprattutto anche l'incremento della velocità possiamo livello intanto a 20 così non abbiamo problemi scegli un talento allora vediamo a livello 4 morte solitaria messe d'anima inflige il 75 per cento di danni aggiuntivi se colpisce un solo eroe ok quindi una cosa da uno contro uno una missione della nostra è proiezione d'ombra colpisci 20 eroi con velo di morte estende permanentemente la portata di velo di morte del 33 per cento ne riduce il tempo di recupero di due secondi quindi ciao otto secondi arriva a 6 messe nera applica marchio del mietitore agli eroi per un totale di 150 secondi aumenta permanentemente la durata di marchio del mietitore di due secondi quindi se in generale già dura ben 4 secondi dovrebbe arrivare a 6 quindi questo significa anche più danno a dot restante questi due se la giocano abbastanza eeeh vabbè proviamo questo poi mano gelida messe d'anima rallente nemici del 20 per cento per 2,5 secondi mortalità quando danneggia un eroe il bonus ai danni di assalto spiritico è pari al 4 per cento della salute massima del eroe quindi si parla della nostra w cioè quella là che ci dovrebbe fare teletrasportare ok tocco della morte recupero 30 secondi quindi un'altra attiva all'attivazione riduce le cure ricevute dagli eroi colpiti a marchio del mietitore del 50 per cento per 4 secondi ai 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 sto talento è molto molto interessante sicuramente quindi in base a quanti supporti stanno utilizzando gli avversari questo qua può essere molto utile in generale anche questo può essere utile però solamente se si va ad attaccare un tank però non so qui sinceramente proverei a andare per mano gelida provare forse assicurare qualche kill anche perché dubito che sia una buona idea provare a fare un 1 contro 1 con matel considerando che alla fine è un assassino da mischia però vabbè ovviamente lo scopriremo un pochino meglio facendo qualche altra partita che ne so vediamo a livello 10 anime tormentate recupero 80 secondi fornisce 20 resistenza e libera un fiume di anime che applicano continuamente marchio del mietitore ai nemici vicini per 4 secondi mi ricorda un po' l'abilità su diablo 3 quella che praticamente fa un cerchio tutto intorno a sé e colpisce fa anche danno estrema unzione recupero 75 secondi condanna un eroe nemico e dopo 2 secondi infligge danni pari al 50 per cento della sua salute mancante ai 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 missione ripetibile i nemici uccisi durante l'effetto di estrema unzione ne riducono il tempo di recupero di 5 secondi fino a un minimo di 15 wow molto molto interessante quindi questa abilità questo può dare anche resistenza secondo me questa è più per l'anti tank quindi mi piacerebbe un po' provarla anche per vedere cosa succede però l'altra non è male nemmeno quando magari c'è soltanto un tank anche se non lo so se prenderei malta el con un solo tank beh ovviamente qui stiamo facendo un po' un theory crafting potremmo dire così stiamo facendo un po' delle teorie stiamo un po' immaginando come potrebbe funzionare malta el in questo meta attuale beh sicuramente questo qua può essere utile per quando ci sono più bersagli squish beh vediamo sarebbe anche da provare come se la cava in generale contro bersagli come cromi che hanno pochi hp o addirittura immagino tipo abatur che non gli fa danno il murlock per esempio sarebbe carino comunque assimilazione dell'anima aumenta il bonus alle cure di messe d'anime fornito dagli eroi al 4% della salute massima dell'eroe di base abbiamo il 3% quindi è un incremento dell'1% può essere utile se ovviamente hanno tanta salute però al solito non so esistenza eterea cioè fornisce 15 resistenza fisica per ogni eroe nemico colpito da marchio del mietitore fino a un massimo di 45 ok fine inevitabile un'altra attiva recupero 30 secondi all'attivazione malta l diventa inarrestabile per 2 secondi ma rimuove tutti i marchi del mietitore attivi ok quindi può essere sicuramente un'opzione da avere per quanto riguarda fuggi recupero 30 secondi velo della saggezza dopo 2 secondi fornisce 50 resistenza magica per 4 ok quindi questi qua sono più talenti difensivi potremmo dire beh onestamente non è male questo qui perché diventare inarrestabile bisogna vedere se ci sono ovviamente tante persone che possono stordire o cose del genere quindi molto molto situazionale questo beh immaginiamo che ci siano tanti cc perché ormai nel meta attuale ci sono un sacco di personaggi che solitamente provano a stordire e quant'altro quindi proviamo ad andare così poi a livello 16 collezionista di anime riduce di 0,5 secondi il tempo di recupero di messe d'anime e ne estende la portata del 50% quindi in effetti 1,5 secondi sarebbe un attimo da provare una cosa cioè sottrae l'anima giusto mettiamo il marchio usiamo la Q e poi veramente lo dovremmo ricolpire per no invece rimane ok chiaro quindi non è tipo una cosa che proprio si leva totalmente se uso la Q però ovviamente si vede quando sta per finire cioè wow non male non male comunque ok questo talento allora potrebbe essere interessante però vediamo massacro assalto spiritico infligge danni e applica marchio del mietitore ai nemici vicini al bersaglio ok Memento Mori marchio del mietitore infligge il 100% di danni aggiuntivi se permane su un nemico per più di 4 secondi quindi sicuramente mostruoso contro i tank però questo qua massacro sembra più potente per per i team fight direi beh poi vediamo angelo della morte estrema unzione di generale salute pari al 100% dei danni inflitti i bonus attuali e futuri alla riduzione del tempo di recupero sono raddoppiati wow sipario finale velo di morte lascia una scia che dura 4 secondi e applica marchio del mietitore ai nemici nell'area ok morte inarrestabile recupero 180 secondi all'attivazione consente a Mattel di risorgere immediatamente dall'altare ma aumenta il 25% la durata della morte successiva ai 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 questo talento è sicuramente utile però allo stesso tempo aumentare il 25% la salute della morte dopo a 2 minuti di cooldown no più di 2 minuti scusate 3 minuti di cooldown eeeh caspiterina questo qua è interessante cioè è una scelta così vediamo intanto che cosa farebbe l'altra ultimate finchè anime tormentate attivo uccidere l'eroe in aumento alla durata di 4 secondi ok sicuramente questo potenzialamento non è male lasciare una scia eeeh vediamo un pochino come funziona perché immagino che se becchiamo per esempio durante un team fight possiamo continuare a spormare la nostra Q magari i bersagli rallentati utilizziamo la W ma in effetti è un wave clear piuttosto interessante perché consideriamo anche che siamo a livello 20 giusto però non male caspita parli poco Malta se devo essere sincero però ridi tanto ok proviamo ad attivare un attimo un eroe nemico magari un tank tipo Anubarak per esempio così magari diamo un'occhiata più o meno a quanto danno gli facciamo come lo combiniamo ovviamente dobbiamo considerare anche che è un bot però è andato per ok ha messo la build più veloce che abbiamo visto praticamente ok quindi dobbiamo provare a colpire Anubarak tipo così cominciamo ovviamente a fare un fight e quindi la nostra ultimate dovrebbe essere più efficace quando sta per morire aha oh ok 1500 danni praticamente con Anubarak a metà vita certo ciocale purtroppo non è proprio facile da provare no beh c'è disattiviamo questi tipi allora vediamo un altro bersaglio abbastanza fastidioso che solitamente ci ritroviamo contro tipo Asmodan molto spesso ce lo ritroviamo contro vediamo quindi questo significa che i nemici uccisi durante l'effetto di estrema unizione ne riducano il tempo di recupero di 5 secondi fino al massimo di 15 quindi è una cosa che praticamente rimane fissa ok cerchiamo affrontare Asmodan quindi a questo punto utilizziamo la nostra E ovviamente lui rimarrà fermo poi proviamo ad utilizzare la nostra W ci riavviciniamo ehm onestamente dovrei provare l'ultimate più che altro anche per capire e onestamente dovrei provare anche l'altra dopo è un peccato che non possiamo mettere più di un eroe onestamente perché sarebbe buono anche per testare l'altra ultimate però pazienza allora quindi oh cavolo giusto devo stare attento perché non ho i tempi di recupero quindi spammare la Q potrebbe essere molto facile quindi se lui per esempio sta scappando splat 2300 danni su Asmodan ragazzi ok quindi quest'ultimate contro i tank è formidabile certo può essere un po' counterata ad esempio da alcune barriere immagino dall'eggita di Auriel però se lo utilizziamo quando è abbastanza pulvita non fa niente ok e che cosa è questo disrespect Asmodan quindi la cosa importante è tentare di usare un po' la pyroblast di Keltas su certi punti di vista wow che cosa è quel marchio lì sopra a quel punto cosa era quel marchio onestamente non credo di avere qualcosa in particolare che eh un momento voglio capire se per puro caso era tipo la W come un segnale per dimmi se usi la W lo uccidi oppure se utilizzi la R lo uccidi vediamo eh proviamo a levargli abbastanza salute ovviamente ok quindi questo significa che se mettiamo la R forse lo uccidiamo ah quindi quest'ultimate a quanto pare funziona che ci indica quando possiamo ucciderlo al 100% un pochino come l'ultimate di Manto Grigio se ci pensiamo ok quindi questa è una cosa molto interessante ok adesso proviamo un attimo a disabilitare Asmodan perché se no continua ad attaccarmi onestamente vorrei vedere gli altri talenti quindi disabilitiamo per il momento Asmodan e proviamo magari qualcosa altro allora ripristina talenti allora possiamo provare a fare un'altra build magari per esempio vediamo una cosa sulla W quindi andrei per cioè questa qua sarebbe più da scontro uno contro uno però onestamente non so almeno che gli avversari non siano abbastanza lontani cioè si vuole provare a prendere qualcuno tipo una Chromy che sta un po' più lontano oppure un Keltas un po' più lontano però onestamente se devo essere sincero preferirei utilizzare questo addirittura proiezione d'ombra potrebbe essere utile visto che abbiamo aumentato la portata a W potrebbe servirci magari più avanti per cercare di fare poking anche un po' a distanza e poi avvicinarci quando è il momento però non lo so questo talento sembra più interessante ma si poi vediamo assalto spiritico infligge danno aggiuntivo agli eroi quindi magari andremo per questo e proveremo anime tormentate quindi aumento della resistenza applicazione di marchio del metitore continuo qui per esempio possiamo provare a mettere questo la W questo con talento mi piace molto però il momento mori forse potrebbe essere più interessante se riusciamo a finire c'è la missione qui ok proviamo adesso ad utilizzare queste abilità in generale contro eroi un pochino più squishy che ne so proviamo un altro che può andare di coppa a corpo tipo Alarak tu dai fatti vedere ok perfetto quindi proveremo un attimo a fare uno scontro ovviamente siamo contro un bot però almeno per avere un'idea di quanti danni farà Maltel contro un bersaglio come Alarak che ovviamente mi sta ignorando ouch estenziato ah già i tempi di recupero ok proviamo questa R ok chiaro eh purtroppo ok non è poi così malvagio forse quest'altimente più che altro si utilizza per aiutare forse in front line cercare di fare danno ad area però non lo so vediamo se di essere il danno che abbiamo fatto Alarak non era poi così tanto in effetti abbiamo preso danno da mezza sua combo e siamo a metà vita vediamo ecco esatto c'è sicuramente molto squishy ok tempi di recupero magari abbassati Alarak perché ti fai colpire dai dalle torri please comunque ok il sustain così è molto più basso quindi sicuramente come immaginavo contro bersagli squishy non è poi così tanto potente forse potrebbe essere anche la build però sicuramente sarebbe carino da provare quando ci sono per dire più persone so che questo è il caso proviamo a utilizzare quindi ultimate in realtà possiamo continuare a usare le nostre abilità anche durante questa ultimate ok quindi è chiaro non è una cosa che tipo ci impedisce di fare altre cose ok sono quasi convinto che l'altra ultimate mi piace anche di più onestamente vediamo un po' proviamo a ricaricare per esempio mettiamo questo si 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 un attimo cos'è questo disrespect Alarak ok estremo unzione quindi quindi mettiamo talenti un po' a random quindi anche per lui vale la stessa cosa però ovviamente ci vuole molto più tempo per utilizzarla però credo che sia utilizzabile anche contro questi bersagli eh quest'ultimate sinceramente la preferisco finora va bene ragazzi direi che potrebbe bastare così credo proprio che Maltel sarà molto situazionale onestamente soprattutto in situazioni dove ci sono magari più tanko o comunque più bersagli abbastanza grossi sicuramente sarà molto interessante anche da provare contro varian cioè posso immaginare un attimo che possa funzionare come counter adesso per varian tank considerando il fatto che praticamente la sua il suo marchio del mietitore lascia ovviamente questo dot in base anche alla salute fa danno per quanto varian possa essere resistente credo che non possa resistere anche a questi danni dot beh sarà sicuramente molto interessante spero che possa anche un po' aiutare la situazione attuale del quick match quando si trova un varian contro visto che molto spesso si ritrova senza tank in squadra e magari gli avversari hanno questo varian tank beh sicuramente sarà anche molto utile per cercare di contrastare tipo asmodan o cose del genere tipo anche zaria volendo c'è comunque tutti i bersagli che hanno tanti hp e sicuramente sarà il panico per ciocarlo questo personaggio quindi beh sicuramente sarà molto interessante da testare anche in altri campi di battaglia sarà interessante anche testarlo contro bersagli un po' più squishy chissà sono piuttosto curioso non vedo l'ora onestamente di vederlo nei server live se devo essere sincero va bene ragazzi fatemi sapere un pochino voi cosa ne pensate di questo personaggio al solito vi invito a lasciare un like qualche commento ovviamente qui sotto e vi invito anche iscrivervi al canale per altri video che arriveranno molto presto e per il momento direi che da X7 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao